E' in corso il 26esimo livello di gioco alla tredicesima edizione del Lipo, 55 giocatori ancora in pista a caccia di una prima moneta da 105.000 euro. In questo momento 41 minuti e 35 secondi da giocare dei livelli in questione, i bui sono 12.000-24.000 ante 2.000, l'average è 731.636. Poco sotto average c'è Ferdinando Locascia, giocatore professionista di TitanBeta.it, come vanno le cose? Non ci lamentiamo anche se abbiamo avuto alcuni alti e bassi, abbiamo rischiato di prendere un grosso pot da 1.300.000, però sfortunatamente abbiamo perso il flip, non ci siamo persi d'animo. Poi siamo risaliti vincendo Assodonna contro Cappagec e adesso siamo qua, non molleremo fino alla fine. Un torneo emozionante, su Facebook leggevo che tutto quest'anno dicevi che avevi rannato male, insomma che su 2014 partirebbe un po' meglio? Speriamo, speriamo, già che siamo un demone, comunque una soddisfazione minima, poi chi è abbastanza ambizioso come me sa che conta solo la prima posizione, però non si può sempre vincere. Vi lasciamo vedere ovviamente le carte, questo è Ferdinando Locascia, giocatore pro di TitanBeta.it, storico sponsor di questa grande manifestazione che è l'IPO e ricordiamolo, ad aprile, sempre con TitanBeta.it, imperdibile, l'IPO da 1 milione di euro garantito. A dopo! Grazie! Grazie a tutti!